Tutti noi abbiamo a cuore i nostri amici a quattro zampe, che riescono con amore e fedeltà a diventare parte della nostra famiglia, a tutti gli effetti. Tra i momenti più belli che passiamo con loro, ce n'è uno che fa più male di tutti. Stiamo parlando di quando siamo costretti a dare al nostro amico un ultimo saluto. Ed ecco che a noi è venuta in mente una soluzione. Il progetto Arca nasce per offrire uno spazio virtuale dedicato completamente ai nostri amici animali. Iosef e Lorenzo, due ragazzi di San Giovanni Valdarno, hanno così creato il primo cimitero virtuale per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto è sostenuto solo da donazioni di persone e aziende che vogliono unirsi per sensibilizzare sempre di più questa bellissima convivenza. La piattaforma Arca è online da questa mattina. Qui, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, è possibile far visita ai propri amici animali scomparsi, dedicando a loro un pezziero, pubblicando una foto o un video per ricordarli così, con dolcezza. Ti basterà caricare foto e video del tuo animale ed inserire una dedica personale ed un suo codice Q-Code da salvare per poter accedere alla sua scheda. Grazie alla collaborazione con l'azienda Tridom, sarà infine possibile piantare il proprio albero nel mondo in maniera reale col nome del proprio animale. Potrai dare una seconda vita al tuo animale, piantando un vero e proprio albero a tua scelta dedicato a lui.